Centri Areti Gas, società di Estra, con il 99% di controlli, è tra le aziende italiane che più ispeziona la sua rete di oltre 6.000 km, 3,5 volte i limiti fissati per legge. La fondazione ITS Energia e Ambiente, partecipata da Estra, lancia per il prossimo bienio un'offerta formativa su misure delle aziende, con i corsi Ambiente 21, Sostenibilità 21 ed Industria At Energia 21. A Montemurlo il pieno di elettricità è gratis fino alla fine dell'anno. Il Comune Pratese ed Estra prolungano le agevolazioni per la ricarica dei veicoli elettrici nelle tre centraline installate dal gruppo energetico. L'illuminazione pubblica del Comune Fiorentino di Calenzano è completamente a LED. Estraclima ha infatti concluso la sostituzione di 3.000 punti luce con lampade a forte risparmio energetico.